Oggi ho approfittato del fatto di dover essere a Urbino, al centro vaccinale del bocciodromo comunale, per fare il mio vaccino, che ho prenotato nella fascia 50-59, per ringraziare anche tutti gli operatori, tutti gli operatori della sanità, che sono ogni giorno al nostro servizio, tutti gli operatori della protezione civile e della Croce Rossa, che ugualmente fanno un lavoro incomiabile. Voglio anche fare i complimenti in generale a tutta l'attività che si sta mettendo in campo per la fase vaccinale, visto che mi sono prenotato il primo giorno utile, mi pare fosse il 15, e l'appuntamento mi è stato dato oggi, che era il 26, quindi da distanza di pochissimi giorni. Quindi un'efficienza che ci consentirà, grazie al lavoro di tutti coloro impegnati in prima linea nel fronte sanitario e del volontariato, ad uscire al più presto da questa brutta situazione e tornare le nostre vite quotidiane nella normalità.